Hanno preso in via una serie di incontri organizzati dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce in collaborazione con il club Soropimiz di Lecce, che si terranno in modo itinerante presso istituti della scuola secondaria del secondo grado della provincia per sensibilizzare il giovanecato fenomeno della violenza di genere, dando consigli pratici per rilevare i fattori di rischio e assumere le adeguate iniziative anche quando le vicende riguardano un familiare o un'amica. Questi incontri nascono da lontano perché nel 2015 il Soroptimist International nazionale ha stilato un protocollo di intesa con l'arma dei carabinieri nei confronti della sensibilizzazione, nei confronti della violenza sulle donne. Questi incontri che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ha chiesto al Soroptimist International Club Lecce e mirano a sensibilizzare le giovani generazioni a questo grandissimo, gravissimo problema. Gli incontri sono stati già avviati. Quali sono le percezioni che ha ricevuto direttamente dai ragazzi? Sì, questa mattina abbiamo avviato un incontro presso l'Istituto Presta Columella e altri dieci incontri nell'ambito della campagna Orange of the World lanciata dal Soroptimist si terranno in altre scuole di Lecce e della provincia. Questa mattina siamo stati al Presta Columella e è stato un incontro meraviglioso, molto partecipato, i ragazzi erano tantissimi e soprattutto hanno fatto delle domande, hanno partecipato molto attivamente, hanno fatto delle richieste molto interessanti e molto stimolanti.